ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a sfrucugliare oggi lo yema susmarin susmarin è un orologio un diver che è stato presentato quest'estate quindi di recente uscita diciamo così un orologio che come particolarità quella di essere un diver sviluppato con jason washington io non conosco questi personaggi delle delle immersioni che è un subacqueo professionista e l'ha sviluppato in collaborazione con yema così mi dicono dalla regia detto questo qual è la particolarità è che non assomiglia nessuna di quelle realizzazioni che finora ha fatto la casa siamo abituati a vedere il superman 500 i diver con il blocco a corona esterno no quel tintinio quel simpatico aggeggio che è sulla corona che serve a bloccarla questi no questi sono semplici ma la loro particolarità è il colore perché vengono realizzati vengono venduti in cinque configurazioni di colore attenzione che il colore però riguarda solamente la ghiera il colore della ghiera perché quadranti per la maggior parte sono solamente neri c'è solamente il blu e il verde che oltre a ghiera anche il quadrante colorato gli altri sono neri come questo qua che ho preso io oggi che pensavo fosse arancione figuratevi quadrante nero ghiera arancione invece non è arancione me ne sono accorto una volta portato a casa quando ho scoperto che esiste la versione con la ghiera arancione questo è più un giallo arancione ma è talmente non è un giallo è quasi un arancione quindi sono diciamo ci sono due orologi con due versioni con ghiera arancione una giallo arancione è una arancione quante volte ha prodotto arancione non si sa però per bilanciare dico giallo giallo mi è piaciuto l'orologio che la sua particolarità è quella di essere venduto sia col bracciale che con il cinturino e cinturino è in tinta con la ghiera questa è la particolarità cinturino in gomma l'orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che parte un ufficiale del canale concessionaria del marchio iema e che offre un trattamento di favore a voi che guardate no basta che telefonate vi fa il prezzaccio no ci siamo capiti cosa vuol dire detto questo l'ho preso perché è un orologio che tutto sommato mi piace non al cento per cento perché non rientra completamente nei miei gusti questi colori qua infatti volevo prendere quello nero ecco la ghiera nera ho detto prendo quello nero è quello che si avvicina di più ai miei gusti poi ma perché cioè in una serie di cinque orologi che il colore è il loro punto forte fammi mostrare agli amici del canale almeno un colore no e ho preso questo qua che pensavo fosse arancione arancione ripeto arancione invece giallo arancione mi mostro l'orologio del giorno oggi che è questo bellissimo bright cronomat da 40 mm con il suo bellissimo calibro età 28 93 orologio per poveri perché non è un calibro di quelli che la gente porta così no non è c'è un età dentro cosa è un bright con il suo bracciale che mi piace tanto è un bell'orologio mi piace non mi serve gmt ma l'ho preso ugualmente detto questo giriamo la camera diamo uno sguardo allo yema su smain e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni personali ciò che sembra a volte non è sempre meglio quindi partire dai dati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 40.7 mm spessore 12.6 ingombro trasversale al polso 45.9 millimetri e interasse ansa da 20 lo si può definire compatto certo che si si tratta di un diver e in quanto tale si va a posizionare più nel settore diametro contenuto che in quello sovradimensionato a gusto personale poi è la misura più adatta al mio polso appena sotto il 41 è l'ideale devo fare presente che si tratta di una tipologia di orologio particolare infatti rientra in quella branca di diver che hanno la ghiera girevole sporgente rispetto alla cassa sottostante e 40.8 sono presi appunto la ghiera la cassa vera e propria misura circa 40.2 mm il risultato al polso è quindi un mix di questi due fattori con una menzione particolare al lag to lag veramente contenuto per comprendere la forma della cassa è quindi necessario osservarlo di profilo e lì vediamo che si tratta di una sagomatura leggermente discendente con l'attaccatura ansi che va a formare un dato angolo di incidenza un design classico che non presenta particolari degni di nota ma che nel complesso ci restituisce sobrietà e solidità essendo un diver 300 metri di stile contemporaneo non poteva mancare la corona di carica a vite con le immancabili spallette di protezione che qui prendono una sagomatura al quanto è solita a tronco di piramide anche qui niente di particolarmente innovativo ma la base quadrata le rende apprezzabili per stile e per geometria per quanto riguarda le finiture globali abbiamo un semilucido generale che si trasforma in satinatura circolare sul dorso delle anse e sul dorso delle spallette lavorazioni essenziali che non vedono alcun bisello di sorta a separarle insomma una cassa che non brilla né per originalità né per finiture ci pensa però il lato superiore a smuovere le acque sia per design che per cromatismi la ghiera unidirezionale a 120 scatti si mette in evidenza per l'inserto in alluminio giallo arancio che conferisce luminosità all'insieme la finitura non è uniforme appare granulosa quasi glitterata ideale per gli amanti degli orologi vivaci come detto in apertura è presente in differenti tonalità e questo può rappresentare il punto forte di tutta la collezione la possibilità di scelta la rotazione è quanto fluida è il feeling buono ciò che invece mi perplime è la grafica dei numeri quella linea verticale che separa le cifre è da una parte originale dall'altra un po confusionaria sembra di leggere 410 510 e così via probabilmente basta farci l'abitudine più sobrio e distinto appare invece il quadrante anche se con le sue peculiarità intanto il vetro zaffilo parte a filo della ghiera e rimane parallelo al dial un trasparente completamente piatto che non incide sullo spessore e al di sotto parte la composizione articolata che va a formare il quadrante vero e proprio incontriamo infatti un anello metallico spazzolato che si trasforma in rio bianco inclinato due elementi che da subito mettono in evidenza la profondità degli spazi c'è poi il dial vero e proprio il cui piano inciso da uno chemin de fer chiaro che replica il minutaggio presente sulla ghiera non so quanto sia leggibile ad occhio nudo ma è sicuramente utile ad incrementare la tridimensionalità degli elementi se non bastasse tutti gli indici sono applicati ed in rilievo andando così a creare una nuova quota al di sotto del vetro specie quelli e quarti che essendo di dimensioni maggiori finiscono a sbalzo sullo chemin de fer prima menzionato insomma un quadrante che seppur nella sobrietà del bianco e nero brilla per soluzioni estetiche e geometriche per non parlare dell'equilibrio simmetrico ottenuto dall'assenza del datario e dal posizionamento speculare di tutti gli accenti sa vasandir che la leggibilità è eccellente grazie anche alla semplicità delle sfere e al superluminova bgw9 presente in ogni dove anche sui numeri stampati sull'inserto ghiera cosa non sempre riscontrabile in altri orologi non ho ancora menzionato il calibro che si nasconde sotto un fondello avvitato alla cassa che presenta lo storico stemma della casa si tratta dello yema 2000 calibro di architettura proprietaria che è stato sviluppato da yema stessa movimento che viene regolato a più 10 meno 10 secondi al giorno ho già parlato altre volte di questo meccanismo e ancora una volta ribadisco il mio pensiero riguardo delle finiture che non mi sembrano di primo livello ma per fortuna non sono visibili ad occhio nudo e gli lasciamo quindi volentieri svolgere il suo compito al riparo da sguardi indiscreti non rimane che parlare del bracciale elemento che appare sicuramente di buona fattura senza gridare al miracolo un chicchi di riso che si distingue per non essere lucido l'opacità generale dell'acciaio e la sua spazzolatura può essere accolta come un plus molto spesso ci lamentiamo dei bracciali lucidi anche se personalmente non è certo un dettaglio che mi può impedire di apprezzare un orologio nella sua globalità molto flessibile qualità intrinseca della tipologia e di spessore contenuto vede classici pina pressione quali i responsabili dell'accoppiamento tra maglie segnalo poi la prolunga manuale per gli indumenti esterni ben solida e ben strutturata e i quattro forellini di regolazione sulla scatoletta quest'ultima pare un poco anonima e scontata ben fatta certo ma niente che non ricordi le tipiche clasp di fornitura possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali punti deboli non ce n'è io non ne ho mica trovati i punti deboli vogliamo dire la scatoletta lì che è quella di fornitura classica come si trovano dai 6 fino ai micro brand più schicci del ponte cioè sembra una una scatoletta di quelle di fornitura ne ci fanno scrivere sopra i ma niente niente di che però l'unico punto debole veramente cioè non riesco a trovarne altri poi mi potete dire il calibro di manifattura che poi insomma costa meno di quelli che hanno incassano l'eta quindi da dove viene da dove viene potrebbe essere un punto debole per qualcuno nel senso che chiaramente le componenti vengono dalla cina dall'asia e poi vengono assemblate in francia molto no la francia vicino alla svizzera e è risaputo che poi la filiera è quella della dell'orogeria svizzera perché hanno la sede a pochi chilometri al confine quindi per l'approvvigionamento dei determinati particolari delle lavorazioni possono anche rivolgersi svizzera però è quasi sicuro che le componenti sono in cina questo non significa niente le componenti del calibro mi direte che poi per la manutenzione ordinaria dovrete rivolgervi alla casa è un un orologio economico una casa che fa orologi economici insomma scoccia un po doversi per forza rivolgere a casa ma io sono uno di quei coloro che pensano o ce l'ho fatta che la manutenzione alla casa madre sia la scelta migliore o quasi sempre quasi sempre rispetto questo qua ci ha letto a 28 93 potrei portarlo a fare manutenzione da qualsiasi orologio ma io credo che un giorno mi affiderò alla casa o alle orologerie che sono affiliate a casa che sono riconosciute no insomma facciamo le cose fatte per bene poi punti positivi e insomma la qualità c'è le finiture della cassa non sono niente di particolare ragazzi cioè non è che ci sono delle transizioni di biselli di è un orologio semplice essenziale però la qualità c'è il punto è che il bracciale io lo sceglierei con il bracciale ma questi orologi qua sono nati secondo me il loro senso vero è quello di essere acquistati con il bracciale in gomma perché perché va a riprendere esattamente il colore della ghiera cioè c'è un abbinamento tra cinturino in gomma giallo arancio e ghiera giallo arancio che nell'ambiente acquatico rende al meglio io sinceramente a me piace più l'orologio braccialato in questo caso io dovrei comprare l'orologio braccialato e a parte il cinturino in gomma però ci sono quelli che amano che preferiscono cinturini ai bracciali e quindi loro sono fortunati perché vanno direttamente su quello in gomma che si abbina con il colore della ghiera e lì è la morte sua diciamo poi per il resto niente io vi ho messo lì sul piatto tutti gli ingredienti tutte le bellezze le bruttezze che non sono emano tante di questo orologio va da sé che è l'estetica è a comandare poi alla fine cioè vi piace l'orologio vi piacciono la forma della ghiera che esce dalla cassa il quadrante con gli indici e quarti più grandi no deve piacervi la semplicità delle sfere che non sono niente di che due sfere messe a matita messe lì deve piacervi se vi piace la qualità c'è l'orologio vale la pena mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e e e e e e e e Grazie a tutti.